Io sono Dina Staro, o meglio Placida Staro detta Dina e sono la responsabile del centro di ricerca e documentazione della cultura montanara di Monghi d'Oro dell'associazione Benevenga Maggio. Da 40 anni ci occupiamo di promuovere la cultura della danza e della musica e la cultura simbolica dalla penino bolognese. In questo nostro lungo percorso abbiamo incrociato storie e esperienze di ogni genere, ma certamente quella che ha dato il là alla nostra esistenza è stata la figura testimoniale di Melchide Benni, il violinista della valle del Samena. Ora, sulla base della sua esperienza è partita tutta la nostra esperienza. Sulla base della sua proposta di condivisione con le nuove generazioni è partito tutto il nostro tipo di lavoro sul territorio. Quindi non è una sorpresa che di fatto molte delle nostre attività abbiano richiamato il suo ruolo come ponte tra culture, un ruolo che è stato celebrato ed esaltato dall'intervento di figure di esperti come musicologi soprattutto e antropologi che hanno fatto sì che la musica della valle del Samena divenisse quasi un esempio sul territorio non solo nazionale ma anche europeo e internazionale. Sono qui quindi in questo momento a presentarvi quanto accadrà quest'estate, cioè il ritorno di alcuni musicisti, di un musicista in particolare Raffaello Stefanini che proprio dalla Val di Sambro, sempre dallo stesso comune da cui viene Melchiade, se ne andò in quel del Monti e Palaci negli Stati Uniti e è diventato uno dei musicisti più rappresentativi di quel tipo di musica. Questo ci pone degli interrogativi che riguardano la comunicazione fra culture e la condivisione di temi comuni in situazioni anche molte lontane fra loro. I temi dell'immigrazione, dell'immigrazione naturalmente e delle musiche cosiddette marginali o residuali o comunque di popolazioni che non sono certamente la classe dominante delle società ci impone come dire di presentare questo tipo di attività. Abbiamo avuto la fortuna che Alessandro Portelli, che non solo in Italia, è uno dei maggiori storici che si è occupato di questi fenomeni, ci ha ascoltato e quindi vi presentiamo l'incontro fra Franco Benni, figlio di Melchiade, che è presidente della nostra associazione attualmente e Alessandro Portelli sui temi appunto della cultura musicale e anche della società degli appalaci. Non sorprende scoprire alcune comunanze, in particolare per esempio l'apprendimento, le forme di apprendistato che esistono nella cultura musicale lì come anche in questa, per cui per esempio l'uso della musica come la trasmissione esclusivamente orale, ma soprattutto della musica come derivazione di un gesto, di un gesto sonoro che è volto a una pratica di tipo sociale e collettivo, la danza. e quindi io vi lascio a questa conversazione che vi darà sicuramente degli spunti di riflessione e auguro ai Moonshine Brothers una grandissima permanenza e Raffaello un po' ritorno a casa. La prima domanda è come mai hai insomma accettato di insomma interagire con noi, quindi non so, il nostro progetto ti ha incuriosito, l'hai apprezzato, ti ha detto qualcosa? Intanto che il nome di Melchia De Benni è un nome che automaticamente ti chiama rispetto e partecipazione, quindi qualunque fosse il vostro progetto avrei aderito. In più mi pare interessante questo rapporto con, diciamo, tra Appennino e Appalacchi sia in nome ovviamente del violino che è lo strumento che li tiene in comunicazione sia alla luce del tema delle aree interne che è un tema molto importante oggi nel, diciamo, ribensare un po' la forma del nostro paese. Quindi sono queste le cose che in primo luogo mi hanno mi hanno reso disponibile e interessato, ecco. No, bene, bene. Mi fa molto piacere. È chiaro che io non sono Melchia De, anche se come figlio ho suonato tanto con lui, diciamo che è passato attraverso di lui molto sull'amore e l'attenzione verso le tradizioni e la cultura popolare di cui lui era l'interprete e protagonista, ecco. Quindi a livello associativo cerco di dare una mano e proprio sull'appennino di Monghidoro, insomma l'appennino bolognese. Per noi è molto importante ovviamente mantenere e continuare questo rapporto con le tradizioni orali che ci sono state trasmesse ma anche condividere, insomma, altre tradizioni, conoscerle, avere degli scambi. E quindi quando abbiamo imparato, anche casualmente, insomma, che un violinista addirittura dello stesso comune di Melchia, adesso dopo 40 anni negli Stati Uniti, è diventato un valido interprete delle tradizioni dei Monti Appalachi, insomma, abbiamo detto, non possiamo non conoscerlo ovviamente, ma non approfondire questa cosa e condividere delle cose insieme. Quindi questo è un po' quello che ci ha spinto e che c'è all'origine del progetto. rispetto alla tua, ovviamente, conoscenza della storia americana, della storia musicale, orale, eccetera, americana, per esempio la tradizione dei Monti Appalachi, quindi il ruolo che ha svolto nella storia della musica americana, come lo consideri? Direi che è quasi il cuore di questa storia, nel senso che è un luogo dove intanto si sono intrecciate e la memoria dei linguaggi musicali arrivati sul continente americano con l'immigrazione dalla Scozia e dall'Irlanda e quindi tutta la grande tradizione, per esempio, della canzone epico-lirica, della ballata, eccetera, ma anche della tradizione strumentale, appunto il feto, e poi si è incrociata col fatto che lì poi si sono incontrati con gli afroamericani, per cui lo strumento, l'altro strumento simbolico degli Appalachi è il banjo, che nel corso del tempo è passato dall'essere uno strumento ritmico usato soprattutto dagli afroamericani a diventare invece uno strumento usato con grande virtuosismo da musicisti bianchi e neri. Questa è una tradizione che in parte è stata identificata come una tradizione quasi assolutamente bianca, ma in realtà oggi si riscopre molto invece il rapporto della presenza afroamericana anche nella musica country, anche quella che viene chiamata la old-time mountain music, perché ci sono musicisti come Ryan Giddens, gruppi come Chocolate Drops, che sono musicisti e musiciste nere che suonano questa musica tradizionale appalacchiana. In più, dagli appalacchi è venuto poi tutto il filone che è confluito nella musica country a Nashville, cioè non dimentichiamo che le radici familiari di Elvis Presley sono lì. e quindi diciamo uno dei pilastri della cultura musicale americana è passato da questo incontro tra memoria storica musicale scoto irlandese e musica in presenza afroamericana. E questo tu lo consideri valido sia per il repertorio rettamente strumentale che anche per quello corale, cioè anche per le canzoni? Sicuramente, basta pensare a questo, che a parte che alcune canzoni sono chiaramente condivise, che sono John Henry, che è la ballata narrativa classica afroamericana, è poi un banjo tune tradizionale dei musicisti di montagna. Ma se pensiamo che il gruppo musicale più rappresentativo di questa storia, che è la Carter Family, ha raccolto gran parte del suo repertorio grazie a un musicista afroamericano che li accompagnava in giro a imparare le canzoni dei loro vicini. Cioè, questo è anche perché la regione di Appalacchi, che è geograficamente a sud, e tuttavia per quella conformazione orografica sia per la struttura sociale non ha avuto un rapporto così strutturale e intenso con la schiavitù. Quindi, non è caso che durante la guerra civile gli stati degli Appalacchi, Kentucky, Tennessee, West Virginia, addirittura il West Virginia si è scisso dalla Virginia proprio su questo, si sono schierati con il nord. Quindi, in questo senso, senza romanticizzare, perché il razzismo c'era e c'è, è molto intenso. Tuttavia, diciamo, ha avuto una funzione meno decisiva, meno strutturata, che, per dire, nelle zone delle piantagioni. In più, il fatto che gli Appalacchi siano invece una regione a economia essenzialmente estrattiva, le miniere, il carbone, fa sì che nelle miniere la divisione raziale del lavoro, che era sostenuta e promossa dai sindacati di mestiere, nelle miniere questo sia quasi impossibile. Il sindacato minatori, la United Mind Workers, è il primo sindacato, è uno dei pochissimi ancora, che fin dalla sua Costituzione dichiara l'uguaglianza di bianchi e neri sul posto di lavoro. Poi fuori è un'altra storia. Ma, diciamo, sul posto di lavoro, e poi, vabbè, l'uguaglianza relativa, perché poi tutti i minatori afroamericani con cui ho parlato, che parlavano del fatto che poi quando si trattava delle promozioni dei posti di lavoro finivano per essere favoriti i bianchi. Tuttavia, diciamo, le possibilità di incontro, di dialogo, di asconso reciproco fra bianchi e neri, che sono comunque la radice di tutta la musica americana, negli Appalacchi che erano favoriti anche da questa struttura economica. Economica, sociale. Sì, no, di fatti a noi adesso approfondendo un po' dal nostro punto di vista di Montanari-Emiliani, Appenninici-Emiliani, questa cosa ci ha accumulato insomma per tanti aspetti. E una cosa, per esempio, particolare è che facendosi raccontare da Raffaello Stefanini che è, diciamo, si è trasferito negli Stati Uniti all'inizio degli anni Ottanta, quindi sono proprio quarant'anni e più, il suo approccio con la musica tradizionale è avvenuto come tanti in Italia hanno fatto con mio padre Melchia cioè conoscerlo e attraverso la conoscenza personale acquisire il repertorio, le tecniche, la cultura che ti stava dietro. Per cui quello che alla domanda si è emigrato negli Stati Uniti dopodiché ok avevi l'interesse sulla all-time americana così però poi poi mi ti sei mosso. Lui ha detto sono andato a conoscere i vecchi sonatori che ancora c'erano all'inizio degli anni Ottanta. Io non ho mai avuto una partitura da loro perché eseguivano oralmente all'orecchio queste cose e dicevano se tu vuoi impararli stai con me dormi anche a casa mia mi conosci e prendi quello che riesci che ti è possibile che vuoi e questo è venuto. Allora anche questo elemento insomma di riscoperta pur dalla parte di un italiano ci ha fatto molto piacere perché anche nella storia di Raffaello è avvenuto questo recupero che poi lui adesso sta reinterpretando eccetera. Guarda questa è la storia di tanti altri per esempio qui a Roma c'è stato un grandissimo musicista Mariano De Simone che ha fatto lo stesso percorso e Mariano De Simone ha poi creato stavolta allievi Alessandro Garramone e c'è tantissima country music e old time music a Roma che nasce proprio da questo incontro diretto incontro personale di una figura come Mariano De Simone Mariano sicuramente se non mi sa chi è e sì tu hai ragione l'apprendimento non passa mai per la scrittura tra l'altro non è solo questione di non avere gli spartiti il tasso di analfabetismo negli appalacchi è comunque molto alto ma questa non è musica che tu impari impari da uno spartito perché non è musica che tu devi riprodurre come scritta come la musica classica il tuo obiettivo è quello di interpretare al meglio le intenzioni di un di un autore qui qui devi interpretare al meglio quello che ti senti in quel momento e l'apprendimento avviene avviene semplicemente per comunanza per direi che appunto gli incontri con i musicisti tradizionali sono decisivi certo la tradizione passa attraverso il fatto che tu ci cresci in quelle comunità andarci in visita è una cosa molto importante il problema è che perché tu comunque ti impari una tradizione di qualcun altro ma quella tradizione cambia e vive perché le persone che ci vivono che ci nascono dentro la fanno proprio a mano a mano che vanno avanti con la loro vita ascolta un'altra cosa Lomax quando è venuto in Italia non è arrivato nella valle del Sabena quindi nella valle di mio padre e di mio nonno e di altri suonatori di violino però è arrivato nella valle del Reno e noi abbiamo ascoltato delle registrazioni che sono del tutto simili a quelle al repertorio che eseguiva mio padre e allora la cosa anche più bella è che Lomax poi aggiungi tu quello che sai molto più di me cioè dagli Stati Uniti poi è venuto in Italia per ricercare riscoprire e registrare quindi trasmettere tramandare poi delle tradizioni che lui non conosceva ma che ha scoperto in Italia e questa cosa è anche un modo per sentirci parte di una stessa storia diciamo mondiale guarda questo hai proprio ragione nel senso che il progetto di Alan Lomax era quello di creare una una world library una biblioteca mondiale delle musiche tradizionali e lui ha fatto in Italia il lavoro che ha fatto anche in Spagna e in Gran Bretagna dobbiamo Alan Lomax la conoscenza di gran parte del repertorio del canto popolare di gran parte di molte cose importanti del canto popolare della musica popolare scoto irlandese e questo alla luce anche di un'idea che lui aveva che che ha funzionato solo in parte forse che era quella di creare una specie di grammatica grammatica universale della delle musiche tradizionali individuando del degli stilemi minimali e collegandoli con contesti sociali specifici cioè quella che il progetto richiamava canto metrics per esempio in cui diciamo per esempio un certo modo di emettere la voce a gola stretta che secondo lui era identico negli appalacchi come in Lucania stava a suggerire che che certi elementi proprio di cultura del corpo erano erano affini e questo secondo me è molto importante perché va contro tu giustamente sentissi parte di una storia mondiale va contro questa idea del folclore delle nostre radici del folclore legato indistruibilmente a un unico luogo così la musica la musica le canzoni hanno le ali girano e poi le persone le persone le persone viaggiano per cui appunto io ho lavorato su una canzone tradizionale una canzone narrativa italiana il testamento dell'abbelenato che c'è anche in Emilia naturalmente e questa canzone è andata a Pini in Scozia in Irlanda in Louisiana e così via e lo stesso vale per certe canzoni per il riscatto della bella che è una canzone siciliana del 600 che è popolarissima ovviamente in altre lingue nei paesi anglosassoni in tutta Europa cioè la la cosa importante del della cultura popolari è che da un lato sono circolano sono mobili non sono fisse al tempo stesso proprio perché sono mobili non sono fisse cambiando di luogo cambiando di tempo si adattano per cui per cui appunto la la versione calabrese del del testamento dell'avvelenato è molto diversa è la stessa canzone che sentiamo in provincia di Como o a 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 ai ruoli sociali delle diverse situazioni in questa quindi diciamo è proprio questo dialogo tra l'universale e il locale di cui di cui sempre parliamo e che non riusciamo mai a realizzare nella cultura di massa ci può dire cioè che all'incontrario non è avvenuto questo scambio almeno in parte tra i coloni le tradizioni diciamo bianche eccetera rispetto ai nativi ma se diciamo ehm da da una parte ehm ma sicuramente in modo eh non visibile non molto evidente dal punto di vista musicale eh ovviamente la festa nazionale degli Stati Uniti Thanksgiving è una festa in cui si celebra eh un un dono il tacchino che è il dono che le che gli indiani hanno fatto quindi diciamo eh ovviamente se si dimentica di celebrare il dono e e la festa mantiene questa dimensione un po' genocida ma eh diciamo eh in qualche modo la differenza è che in nessun momento eh le eh i colonizzatori hanno pensato a una convivenza e quindi eh e quindi non non hanno non hanno ascoltato su un altro piano ma pensiamo a come i i missionari cattolici spagnoli eh portoghesi inviati dal Papa in Messico hanno distrutto sistematicamente tutto il patrimonio di scritture perché c'era dei maia cioè il Cilambalam il Popol V e così via no? cioè l'idea che queste non fossero culture da eh in qualche modo rispettare ma mandassero ehm anche perché c'era un po' un'idea di demolizzarle letteralmente cioè questi indiani sono credore del diavolo eh quello che eh mi sembra che sia accaduto è che eh poi ci sono stati musicisti di estrazione nativa che hanno fatto musica uno famoso Robbie Robertson che eh nella nella banda di Bob Dylan ma diciamo più esplicitamente eh Buffy St. Marie che è una grandissima autrice di canzoni legate che racconta un po' questo tema del dei rapporti con i nativi eh Peter Lafarge che ha scritto delle cose straordinarie eh Patrick Sky cioè ci sono dei musicisti che è venuto un po' il contrario no? così come ci sono dei grandissimi scrittori eh 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 Leslie Marmon Selco eh indiana eh lei lei rifiuta il termine indiana naturalmente eh della della nazione Acoma ha scritto uno forse uno dei tre quattro romanzi più belli della letteratura americana del degli ultimi cinquant'anni che si chiama Cerimonia cioè eh quello che è avvenuto è che eh questa contaminazione ehm ha generato degli artisti degli intellettuali di estrazione nativa che se ne sono impadroniti per raccontare per cantare e raccontare da un altro punto di vista d'altra parte diciamo eh se noi pensiamo alla musica afroamericana eh Zoe Armstrong non suonava uno strumento africano suonava la cornetta che aveva imparato dalle bande musicali francesi eh il pianoforte di Fats Waller ehm non è uno strumento africano ecco e la cosa veramente affascinante è che lo strumento più africano di tutti il banjo è diventato invece uno strumento simbolico della musica dei bianchi segno proprio che queste cose non sono mai andate separate no difatti credo che sia un aspetto comunque alla fine bello della vita cioè di poter avere sempre la speranza che tutto si possa ricomporre in cose che uniscono che sono belle che sono piacevoli che che superano anche delle le tragedie sociali che comunque abbiamo come uomini quindi nel ringraziarti nel concludere la nostra bellissima chiacchierata ti prometto che ti manteremo aggiornato perfetto quindi ti mandiamo via mail un po' le cose che faremo a luglio perché per dieci giorni saremo appunto impegnati in questa ospitalità quindi anche dei video di esecuzione che faremo di sesso non so ma così e poi e poi dopo vediamo se perché no magari nasce qualcosa di diverso che prende spunto da questo questo nostro contatto e conoscenza benissimo ti ringrazio molto Alessandro non è proprio mio ma anche dei nostri altri amici soci eccetera veramente grazie grazie a presto allora a presto ciao ciao ciao